musica 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 rock and roll è uscito dal lavoro e è venuto qua direttamente fammi fare un tuffo negli anni 70 come si chiama questo? il fanalone il fanalone io voglio fare il primo piano vamo l'arragno ma vai vai la ralla musica un amore 16 rus Grazie a tutti. 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 Allora sì, questo è... Dove sei? Raggiungici. Dove sei... Ci vediamo domani mattina. Dove sei... La gag a cura di... Madrino... The gagmaker... Allora, come è andato... Il tuo primo viaggio... Allora, come... Allora, come è andato... Grazie a tutti. Tu non è andato... Tu non è andato... Tu non è andato... Allora, come è andato... Allora, come è andato... Allora, come... 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 Allora... Allora, come... Allora, come... Allora, come... Allora, come... Allora, come... Allora, come... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.